È successo un incidente non previsto, non prevedibile. È successo un incidente che è stato l'erosione dell'argine e il ritorno del tesina verso la caveggiara. Era una cosa che non si poteva pensare perché l'idrovola è gestita dal consorzio, gli argini sono gestiti anche dal consorzio del genere civile, non si poteva prevedere, non avevamo assolutamente previsto niente del genere. Ieri pomeriggio noi avevamo già messo in sicurezza il tesina, avevamo messo in sicurezza una via che aveva avuto un piccolo problema, cioè eravamo sostanzialmente tranquilli. Falla che nella tarda serata è stata tamponata bloccando così la salita dell'acqua che poi anche se lentamente sta cominciando a defluire. Sette le persone che dopo essere state evacuate hanno fatto rientro a casa mentre altre due sono ancora fuori abitazione. Noi abbiamo oltre all'idrovola solita che svuota il quartiere Pini abbiamo altre tre idrovore, due sono già state piazzate durante la notte vicino all'idrovola, un'altra la piazzeremo nella zona di via del commercio perché lì è una sacca che dobbiamo liberare. Grazie. 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 Grazie.